Cari amici, non vi meravigliate se l'immagine che vedete alle mie spalle è quella della Basilica di San Pietro del Vaticano, perché da lì partiamo per arrivare a cose nostre di tutti i giorni. Il Vaticano è la sede dello IOR, Istituto Opere di Religione, che non pensiate essere una ONLUS, no, no, è una banca, è una banca all'interno della quale 1250 correntisti italiani hanno messo soldi per non farli vedere al fisco. Ora chi non li vuole fare vedere al fisco i soldi è per chi li ha guadagnati, o in maniera illecita o in nero. E non parliamo di pochi euro evasi dal cameriere, dal barista, dal ristoratore, no, parliamo di centinaia e centinaia di milioni di euro. Tanto per capirci la procura sta facendo un conto che sono circa, in tre anni, mezzo miliardo di euro che sono passati di là. E adesso che il vento di pulizia di Papa Francesco sta facendo un po' di rumore, dalle parti mie si dice che la scopa nuova fruscia, cioè fa rumore, ma poi in effetti pulisce come quella vecchia, bene, si è fermata questa ventata di pulizia dentro le mura leonine, le mura del Vaticano, perché non viene a dire all'Italia chi sono questi 1250 farabutti con cittadini nostri che gestiscono centinaia e centinaia di milioni, miliardi esentasse dentro il Vaticano. No, lui non ce lo viene a dire, perché giustamente è il capo di uno Stato estero, non si deve impicciare dei fatti dell'Italia, salvo venirci a dire vergogna, vergogna, vergogna. Caro Papa Francesco, quando ci vuoi dire vergogna noi la accettiamo, perché ci dobbiamo vergognare. Ma ce lo vuoi dire chi sono questi 1260 e passa che hanno fatto soldi a spese nostre e con la complicità, quanto meno la complicità dei tuoi predecessori? Ecco, faccelo sapere, noi te ne saremmo assolutamente grati. E perché? Perché quei soldi sono il frutto della droga. 100.000 morti in Messico per la droga comprata e venduta e ha fatto soldi in nero che vengono depositati nelle banche, quelle che stanno zitte e non dicono niente, come lo Ior. Ecco, mettici una mano, caro Francesco.